ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi in questo video vi spiegherò come assicurare una bicicletta ragazzi come mettere al posto di questa cari rebel una bicicletta niente di più semplice il metodo è quello che ho spiegato più o meno poco fa i passi sono gli stessi però in questo caso andremo ad assicurare una bicicletta invece di guidare in garage allora cosa dobbiamo fare dobbiamo avere innanzitutto due garage distinti andare a prendere la bicicletta nel garage opposto ovviamente di dove si vuole fare il glitch quindi andiamo a prendere questa bicicletta e torniamo nel garage iniziale dove eravamo con la cari rebel una volta tornati nel garage iniziale cosa dobbiamo fare la solita cosa che abbiamo fatto in precedenza dobbiamo comunque mettere vicina al garage la bici lanciare una bomba a gas a terra avvicinarci piano piano ci comparirà scritta garage pieno e dobbiamo solamente aspettare di suicidarci in pratica come state vedendo una volta fatto questo niente di più semplice basterà chiamare il meccanico e in questo caso andremo a chiedere un'auto io adesso qui la polizia vediamo se me la fa togliere ma i miei dubbi e nulla niente adesso vado dal cazzo ma è proprio questa polizia di merda che è sempre tra le palle e questo passaggio ragazzi non dovete farlo insomma io perché ho la polizia alle calcagne diciamo e una volta va bene fatto questo io chiamo il meccanico e mi faccio portare l'auto in questo caso mi faccio portare la cari rebel che andrà a diventare una bici diciamo no andrà a prendere il posto della bici che avete visto all'inizio del video diciamo quando io mi sono suicidato adesso torniamo nel garage e andremo a scambiare la cari rebel senza nessun genere di problema come vedrete adesso io entro nel garage mi lascia entrare liberamente nel garage senza nessun problema vado al punto azzurro ragazzi e cambio solamente di posto come avete visto diciamo che non c'è la cari rebel e non mi segna la cari rebel cambio solamente di posto e mi trovo la bicicletta assicurata ragazzi la bicicletta possiamo chiamarla dove vogliamo con il meccanico tranquillamente liberamente e averla quando vogliamo per questo glitch è tutto un saluto da maxi al prossimo video